Undici! Dodici! Oh, ciao ragazzi! Fermati, bentornati sulle storie di Federico. Io vorrei fare un'altra casetta per gli animaletti, come al solito qui al nostro parco. Vi ricordate che avevamo costruito la casa per le farfalle? Sì. Adesso ne costruiamo un'altra, la casa per le farfalle, purtroppo si è distrutta, è rimasto solo il bastone. Eh, presto, presto, dai, facciamola prima che arriva il temporale, vero? Sì. Allora, incastrono bene. Sì. Allora, adesso vi stiamo un po' dall'altà di noi cosa potremmo trovare. Vi stiamo tutta la natura bella nel parco. No, ma devo andare su, sì. Ti piace, eh? Sì. Basta, la lasciamo così la casetta. Trovato! Aiutami a raccogliere un po' di frifogli. E devi farcela tu da solo. Intanto mettono questi. Non deve essere troppo chiusa, vero Federico? Se non si spaventano, non vengono. Sì. Ecco. Vi piace? Bellissima! Di sicuro verranno, no? No, però basta strappare le fioreline perché servono le farfalle. Guarda, guarda, ho trovato un quadrifoglio. Guarda, 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 lo do a te. Grazie, ora sarò fortunato. Ma sei già fortunato. Senti che sta arrivando il temporale? Quasi quasi è l'ora di andare, di rintamarsi. Cosa ne dici? Sì, esatto. Vuoi che te lo tengo io nel frattempo? Sì. Cosa dici? Possiamo andare via? No. No? Vuoi stare qua? Io ho paura del temporale. Non arriva, vedi? Sì, arriva. Oh, è tutto scuro. No, è tutto soleggiato, fai vedere. Ma di là si sta scurendo. Dietro casa nostra si sta scurendo, quindi mi sa che arriva un bel temporale. Speriamo non faccia danni. Sì. Ma è bellissima! Hai messo anche il fiorellino. Bravo! Questi possono già appoggiare degli animaletti, delle farfalle, delle api. Allora è finita, andiamo a vedere in un attimo la nostra solita gara. Sì. Andiamo. Ciao ciao Parco. Ciao ciao Parco. Metto un attimo in pausa. Sì, mentre ho vinto. Eccoci. Guardate qua, si era streccata la paglia di otto mesi fa. L'avevo messa otto mesi fa, la paglia qua. E' pronta, pronta ad accogliere qualche animaletto. Vediamo. Dobbiamo un po' tosare questi rametti. Però vediamo, lì ce l'ha... Ma... Aspetta. No, ma... Vedi? Dobbiamo proprio... Eccoci qua la nostra tana. Eh sì, cos'è quella cosa nera? Ah, il composto. Eh sì. Qua possono stare tantissimi animaletti. E facciamo vedere anche il nostro ragno bianco? Sì. Il ragno bianco è un ragno molto furbo. Guardalo qua. Ok? Tieni un attimo. L'altro giorno aveva... Stamattina aveva... Cosa fa la ragno bianca? Cacciato una mosca. E se l'ha pappata tutta. Cosa fa? Eh... Vedi, si mimetizza con il colore del fiore. Poi questo ragno qua cambia anche il colore in base a dove si trova. Adesso che è sul fiore bianco... È bianco. È tutto bianco. L'altro giorno, purtroppo, stava mangiando un'appe. Nooo. Oh, focalizza un pochino. Eccoci qua. Stanno andando dalle formiglie. Oh no, sta facendo il giro. Vedi? Che io un ragno bianco non l'avevo mai visto in vita mia. Ciao ciao, Fede. Ciao. Alla prossima puntata. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video della storia di Federico. Ciao ciao. C'è anche una farfalla. Ciao farfalla. Dov'è? Lì. Guardala qua. Perché non si vede... Sei mimetizzata? Sì, guardala qua. La vedi lì? Ah sì, è vero. Perché non si rende bene ma è qua sulla foglia. È benissimo. Eccola qua. Vedi, non ha paura. Ciao ciao. Ciao.